Bentornati fratelli di tuberanza nella prima edizione del torneo tarallo Ovviamente torneo su Mario Strikers con Joseph e Blazzi A tutti ragazzuoli Ciao ragazzi, i blazzoni pronti a spaccare tutto ve lo dico Prima di cominciare il torneo lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video E sul canale di Joseph e Blazzi vedrete le altre giornate dedicate al torneo Perché sì cari ragazzi, inizierà sul mio canale Ma sul canale di Joseph e Blazzi il torneo continuerà e finirà Ma come verrà gestito? Io nel mentre vado a creare la lobby Ogni partita vinta ci darà 3 punti Ogni partita pareggiata ce ne darà 1 Bravissimo, fai avere attento mentre Giuseppe non ci sta già capendo niente No, no, ma io ti ho lasciato parlare, il tuo video non mi permetto La prima partita vede gli a capolista contro la squadra di Joseph che non ho la minima idea del come si chiami Ecco, va bene, va bene Broski Non me lo vuoi dire, non me lo vuoi dire, va bene Si chiama Real GTG Ok, abbiamo deciso comunque che giocheremo con gli equipaggiamenti, giusto? Esattamente Quindi competitivi siamo Ok, let's go Questa è la mia squadra Bene Signori, ovviamente andiamo anche a selezionare la divisa della a capolista E andiamo a scoprire tra l'altro anche la divisa che avrà il nostro Joseph de Spazio Tempo The Gamer E vi ricordo, tra l'altro ragazzi, perché riusciamo a giocare online grazie al Nintendo Switch Online Perché se non lo avessimo tutto questo non sarebbe possibile Dunque, se volete giocare con noi o con i vostri amici, ovviamente il Nintendo Switch Online è obbligatorio Qui sotto trovate il link del sito ufficiale Nintendo per informazioni sui prezzi e quant'altro Yes Eccoci qua Oh, guarda che bell'auto di stadio che mi sono preso Giuseppe, bello colorato, tutto verde E tu invece, vabbè, anche tu Anche io Non è male Entrano in campo Gli... A capolista Gianfranco farà da commentatore, prego Ci proverò, ci proverò Dai, dai che sei bravo Tra l'altro, no, vorrei dire una cosa però non so Dici? Me ne sto rendendo conto soltanto ora che il campo si divide a metà fra lo stadio di casa di uno e dell'altro Come ce lo sapevo che non lo sapevi Non lo sapevo, giuro Allora, io è da un pochino che non lo sto giocando Ok E quindi... Allora, cerchiamo di capirci immediatamente, telespettatori da casa Abbiamo i verdi, che sono una capolista Esatto La squadra capitanata da Tuberanza Mentre abbiamo i blu, che sono i Real GTG Quindi la squadra di Joseph The Gamer Capitanata da Joseph The Gamer, esatto Allora Allora, cerchiamo un po' di capire subito le strategie Abbiamo subito un Joseph The Gamer Uh, aggressivo, eh Aggressivo Sto parlando pochissimo, Fra, perché per il torneo mi sono allenato e quindi sto concentrato Uh, numero 4 Magrissimo Di Waluigi per la... Mi ha spaventato, sai Per la capolista Ma sì, è perché in quel momento lì mi sono detto ma che cosa sta accadendo Numeri Numeri della capolista Subito Todd Hai visto Todd come stava lì pronto per... Sì Vediamo quale sarà la strategia adottata da Joseph Sicuramente Ha il terminale offensivo in Rosalinda lì davanti Prova con Bowser Ovviamente Nario, attenzione Cavacca Vai così Vantaggio della Real GTG Incredibile Puoi dirlo forte, Frosky Vai Incredibile Eh, lo sta accadendo perché mostro di gioca la grande Sfoggia le sue armi Il tiro Prova Prova addirittura lì per tiro Possiamo già ufficializzare un vantaggio di tuberanza questo Let's go Ha fatto il tiro perfetto bro Esatto Assolutamente sì Possiamo ufficializzare il 2 a 1 per la capolista Sì, sai segnale amico mio Ma hai visto in che modo t'ho schivato Yoshi che mi vuole a fare l'intervento bro Sì, vabbè, ma solo perché guarda, è il modo più banale per vincere Perché hai buttato fuori uno, hai buttato fuori un altro Ti ricordo che hai fatto gol sulla respinta Bonetano, magnetista a bomba bro Si sbeffeggiano i due capitani Nel frattempo avanza Mario Sì, è volito Attenzione Rosalinda della capolista Ricordiamolo, anche qui terminale offensivo probabilmente Mario, perdonatemi Mario, Mario non mi preoccupi Non esiste Wario in questa partita Uh, numero Eh, ho sbagliato però Gran recupero Attenzione, ancora la capolista A disposizione di due oggetti Vediamo se li sfrutterà Non ne sfrutta nessuno È mio Rosalinda Tenta il tiro Ma colpisce Bowser Ma quello Rosalinda Prova ma non va Occhio eh Joseph con a disposizione di per tiro Vediamo se riuscirà a sfruttarlo Con la ribattuta di Yoshi Occhio Ci stava provando Occhio Tenta lì per tiro Guarda questo, dai Il recupero della capolista Rosalinda No Porca di pericolo No, lì per tiro è andato per me Vabbè, mi hai tolto lì per tiro Bravo Super intervento difensivo di Yoshi Che poi tenta anche il tiro Oh, subito la murata Uuuuuh No, alzati Vabbè ragazzi Ma ragazzi Ma fa due gol sull'aria e spinta Ma che personaggio è? Ma sconsportissimo Dai bro, ma non sai giocare Fra Ma perché queste offese gratuite Ma non comprendo Combattutissima Ma dai raga Ma su Rosalinda Eh dai Un altro gol sull'aria Sull'aria e spinta Volei fa? No, no vabbè Beccati questo Bagliaccio Ma come bagliaccio? Ma arrabbiatissimo lui Ma come? È una battaglia fra Per il contendente Per il contendente Però le sue rosa linda in questo momento Si stanno dando battaglia letteralmente Ma Copero della capolista Con ipertiro Oh mamma mia Se riuscirà a sfruttarlo Attenzione Ottimo il dribbling Bravo Qui ancora di tuberanza Il dribbling In mezzo per Todd Ma dai ma che fa Metti a terra Metti a terra Fra Aia Siamo Todd Lo scatto Il dribbling Bravo Linda Non ancora Ma porca vacca Levati No Ottima la difesa di Joseph the Gamer Buono Adesso sto un po' soffrendo Vado Eh lo so lo so Sto soffrendo tantino Devo dir la verità Contuberanza molto ispirato In queste fasi di gioco Però Joseph the Gamer Tenta lì per tiro Vado Vabbè In realtà ci stavo Però vabbè Dai Fa niente Quattro Eh sì Eccolo che piange Dai Bam Rovesciata di Mario E 4 a 2 Per la real Joseph the Gamer Incredibile Eh Giocata molto bene Ma non è vero Però va bene Ok Sai che c'è Allora guardo Inizio ad accusare E ancora un minuto E 34 A disposizione Tenta subito Rosalinda Per la capolista 3 a 4 Ma è matto Riapre la partita Matto Sveglia E ci sarà Di sicuro Ancora un ipertiro A disposizione Ma è mattissimo Quello che dice È un matto Oh Non c'è nessuno Spazio Prova il tiro Mamma mia Non c'era nessuno lì Mario Ma cosa fanno Cioè gli ha passato La palla Ma perché Waluigi In mezzo a Rosalinda Eh guarda che me l'ha Terrata No Eccolo in un ipertiro Vediamo se riuscirà A sfruttarlo Joseph the Gamer Yoshi Rosalinda Cerca di trovare Un po' di spazio Oh Attenzione Attenzione Sì Intervento A vuoto Della capolista Non è detto Fuori pista Completamente Attenzione Non è Un ipertiro Da due No Non è un ipertiro Da due Di sicuro Vediamo se Il fortiere Riuscirà a contenerla Lo so già Nel caso Non dovesse riuscire A contenerla Sarebbero comunque Due goal No 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 Sono matti Mamma mia Fra Si è concitata Di nuovo Un ipertiro A disposizione No Fermatelo Che rischio Guarda Che roba Che tocca Vede Via Josef the Gamer Tenta l'avanzata Ali per tiro A disposizione Vediamo se lo sfrutterà O se tenterà il goal Per chiudere la partita In triangolazione Era Ultimi 30 secondi Di partita Ma chi l'ha presa Perché l'ha presa Lui la bomba Mamma mia Probabilmente una cassa Arcobaleno Eh ho capito Ma perché l'ha presa No Bene 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 Ci siamo quasi ragazzi Portiamolo a casa Tenterà di mantenere il risultato O proverà No Ad aumentare È andata per me Ragazzi che vittoria Grandissima vittoria Bravo bravo Clamoroso Real Josef the Gamer In vantaggio Io l'avevo detto Che mi ero allenato E vi avevo avvertiti Ehm Bravo Ehm Ma No no bravo Bravo bro Però magari Quando riesce a fare gol Su azione Senza la respinta Ci fai sapere Ci siamo signori È il momento Seconda sfida Gli a capolista Non si fanno abbattere Dalla sconfitta Poco meritata Di poco fa Ma cercheranno I tre punti Contro Blaziken Che ha la squadra Chiamata I Blazoni I Blazoni I Blazoni Allora Gianfranco Ah come capitano Parto col mio commento Non ti permettere Di ridurti nel mio commento Prego 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 Mi scusi Mi scusi signor Comentatore Ecco Allora direi di iniziare Da subito A vedere quelli che sono Gli scenari Due scenari In totale contrasto L'uno con l'altro Quindi il carissimo Tube ha scelto qualcosa Di molto colorato Simpatico alla vista Mentre invece Blaziken Fa già comprendere Quello che lui Internamente Vuole trasmettere Non solo A Tube Per intimorirlo Ma anche a tutti i fan Vuole che tutti Lo temano A tutti i costi Oh è bravo Guarda il mio capitano Guarda il mio capitano Che poco da fare Guardali Qua abbiamo la capolista Pronta a combattere Ma lui arriva Ma lui arriva con un wario Con una panciata Per eliminare Qualunque avversario Guarda Guarda i colori Cupi Come il cuore Di Blaziken 68 E adesso si va ragazzi Inizia subito la sfida Quindi la palla È andata direttamente Alla capolista Che prova subito Però ragazzi Alla fine dei conti Se il blazzone E i blazzoni Comunque ci hanno provato Ma niente da fare Il ritmo di gioco È veramente Molto veloce E alla capolista Già due ti rimportano In meno in 15 secondi Quindi veramente top Come vedete Blazzi vuole dominare il gioco Studia l'avversario E ci riesce Perché contiene Cioè mantiene il possesso palla Scansa tutti Ma niente da fare Wario un po' impacciato Nei suoi movimenti Ma comunque ci ha provato C'è Tuberanzi Che ha il terzo tiro Addirittura Ma ma Era duro strumento Io penso che ce l'avevo io Ci prova subito Molto bene Molto bene Come notate Adesso C'è Tuber Fa girare la palla Attenzione Uh Che movimento leggiato Ma niente da fare Eh niente da fare ragazzi Va bene Va bene Questo potrebbe essere Un ottimo momento Per Blazzi che ci prova Ci ha provato Ma niente da fare Occhio eh Quindi attenzione C'è Tuberanzi Che come al solito Nemmeno a dirlo Ha preso subito La possibilità Dell'ipertiro Ci prova Eh no Buonissima Bravissimo Blazzi che nel 68 Che è riuscito a fermare Un'azione Veramente pericolosa No No Che gol così Attenzione Ma non ho Ma non ho Caricato Niente nulla Rivediamolo Ma infatti non l'ha collegato Così Spum Warione Spum con le mani Tra l'altro Però va bene Ancora Warione Ancora Wario Pericolosissimo Ma perde la palla In maniera piuttosto banale Va bene Ah non è dato il cursore Beh ragazzi Allora io ora ve lo dico Perché ve lo devo dire Uh no Eh la mia squadra È considerata Nella tier list C'è proprio Con gli equipaggiamenti Che ho dato Che ho messo Eh la squadra Tier S Bro Io vi farei Vi direi Soltanto questa cosa È considerata Attualmente la squadra Più forte e presente Nel gioco Addirittura Cioè vi farei notare Questa cosa Con un Todd Praticamente inutile Ma questo Todd è inutile Inutile Todd Occhio Signori il capitano Il nuovo Wario Pazzesco Cambiato squadra Questa è la prima volta Che utilizzo una squadra In un torneo Bro Il capitano Eh Mi sa che tu Peranza la prima sconfitta L'ha fatto un attimino Come dire L'ha deconcentrato Però adesso Bro mi raccomando Ti voglio più carico Quindi a capolista Mi raccomando Il potere ce l'hai sempre tu Ovviamente In ogni sfida Quindi questo è il tuo momento Per pareggiare E farti un bel 2 a 2 Eh Occhio Se riuscissi a scansarti bene Per poi tirare Ah bella va Luigi Vai Warione No Incredibile il Todd Niente da fare Eh Vai Lascialo Eh Pensavi di avere ancora il potere Peccato la capolista Ci ha provato E tira ancora in porta Credo che la capolista Per la fine della partita Avrà una quantità Di tira lunga Superiore ai blazzoni Che segnano Dal nulla Di nuovo Attenzione Todd Non ce la sto facendo Ragazzi So sincero Che proprio Non riesco Il ritmo di gioco È diventato veramente Molto molto alto Ragazzi Oh Occhio Ah E si riprende Non mi sto trovando Non mi sto trovando Bene con la squadra Bro Non mi piace Questo mood Questo Non lo so Forse c'è da cambiare Qualche personaggio Che ti permette Di gestirtela meglio Ma non lo so bro Io ti dico La sincera verità Vai Tira là Non lo so bro Ti comprendo Ti comprendo Benissimo Ma perché non rinviare Si prende La possibilità Dell'ipertiro Occhio Aia Qualche ingenuità Molto bene Da parte dei blazzoni Che si sono difesi Nel modo migliore Attenzione Ancora un altro tiro in porta Di nuovo Ancora i blazzoni Guarda Ma perché Rivalione E niente Lipertiro è andato Ragazzi Molto bene Un riconquisto Di palla Veramente top Va bene Tira Bello Non male Non male Eh Certo Sto palo gol Ragazzi C'è praticamente Rosalinda PG più sballato Nel gioco Però devo essere sincero Todd E gli altri Non mi stanno piacendo Forse devi rivedere Qualcosa nella squadra Questo sì Magari prossime partite Ma adesso Fatti valere Eh Non hai pensato Al Todd Però Eh Occhio Non avevi pensato Al Todd Dell'avversario Ti ha dato Una bella testata Continua a farmi Prendere 3000 Ipertiro Eh Ma Tube Specializzato Su questo Non te lo freghi Occhio Il super tiro c'è C'è il super tiro Aia Blazi Quaristia In una maniera Meno male Che non è quello da due Meno male Che non è quello da due Infatti no Sono stato un pollo Ma questo perché In tecnica Donkey fa un po' pena Dobbiamo vedere adesso Chi Sarà sotto rete A gestirsi la situazione No Porti che fai Let's go Che fai Porti Blazi Eri in vantaggio Con Tube a zero Guarda Tube Che è riuscito a fare Nel giro di due Ma ha combinato Il portiere però Senza parole Puberanza top Forza Blazi Ma meno male Ma meno male Che Eh vabbò No Ma manca ancora un minuto Non me ne ho accorto Un minuto ragazzi Si posso fare altri 3-4 gol In un minuto Quindi occhio La capolista Guardate come corre Attenzione Tiro a volo Non male Sono inutili proprio Occhio Blazi finalmente Prende un potere Una volta tanto Occhio perché Qua rischi Mirko eh Occhio perché Lui sta studiando Il momento preciso In cui tirare Ah Niente da fare Mio caro Blazione Occhio Si rischia eh Va bene va bene Guarda la capolista Non si ferma Non si accontenta Del 4-3 Non male Occhio al potere Che guardate Mirko Cioè ne viene il tempo Di farlo scendere Ah Attenzione a capolista I poteri Ricorda i poteri Bello Come ha rischiato qua Beh però Mo me la sto rischia Un po' di più io eh Brutta storia Meno male che c'è il Donkey Kong Che ha fatto da scudo No Mi ha recuperato il pallone Non me ne era accorto Che situazione difficile Gli ultimi secondi Mamma mia ragazzi Capitano Capitano No Let's go Let's go I tre punti Ce li portiamo Allora Prestazione ottima Di Blaziken Che è rimasto Negli ultimi minuti Sicurissimo di sé Male 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 Ho sbagliato Sei che ho sbagliato La prima partita La dovevo fare Lo di riscaldamento Mi devo riprendere un attimo Mano con i tasti Porca vacca Me ne ero dimenticati Fortuna Fortuna sto qui per tiro Ragazzi No sta partita Non l'avrei mai Appena è iniziato Con quel torneo Sono io a zero Voi due siete a tre Ok Esatto Ok Ragazzi Allora Per questo episodio Il torneo È terminato Proseguirà sul canale Di Il secondo episodio Di Joseph Facciamo così Di Joseph Vabbè Il secondo episodio Sul canale di Joseph Per capire come sarà Il proseguo di questo torneo Vi ricordo che Se volete giocare a Mario Strikers Online Qui sotto in descrizione Trovate il link Per abbonarvi Al Nintendo Switch Online Obbligatorio Per giocare online Insieme a noi O con i vostri amici Per oggi è tutto Ciao 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 Iscriviti al nostro canale планet